Conoscete Zero Calcare e Blankets, il capolavoro di Craig Thompson? Blankets è una graphic novel che ho amato, rivisitata in occasione dei suoi 20 anni e pensate, è una storia d'amore come non l'avete mai vista prima. L'autore parte dalla sua infanzia nel Wisconsin per raccontarci la propria vita familiare e il suo rapporto con la religione, fino ad arrivare all'incontro con Raina. L'amore esplode allora con tutta la sua forza, sorprendendo il protagonista e coinvolgendo i lettori in un fiume di emozioni tanto appassionanti quanto letterariamente mature. Se come me avete apprezzato e divorato Questo Mondo non mi renderà cattivo la serie Netflix di Zero Calcare, non potete perdervi assolutamente l'artbook dedicato alle animazioni. Questo Mondo non mi renderà cattivo è una serie estremamente impegnata anche politicamente ed è per questo che è stato particolarmente coraggioso, perché non è sempre facile esporsi su certe tematiche. In più, le animazioni erano veramente di alto livello e sono molto contenta che Netflix abbia deciso di affrontare questo tipo di operazione che ha riqualificato la serialità italiana. Mi raccomando, ricordati di seguirci. Ciao!